Per il show 2023, Greta Ray, buonasera! Ciao, grazie per il momento! Allora, innanzitutto, auguri di Ray Compleanno col botto! Sì! Auguri! Happy Birthday! Happy Birthday! Grazie mille! Ti immaginavi un compleanno migliore? No! Sto bello! Poi, quando uno festeggia facendo il proprio lavoro, facendo la propria passione, credo che sia la cosa migliore del mondo, no? È bellissima! Tra l'altro, ho fatto un live ieri sera, prima ero qui live, qualche minuto fa, bellissimo! Bellissimo, immagino, emozioni a caldo da... Che cosa hai provato? Appena sceso dal palco, com'è andata per te? È un'emozione unica, sentire il pubblico che canta, sentire tutta quell'energia, tutta quella gente, dici, oddio, mi sono meravigliosa, oddio! Anche perché voi vi nutrite di questo!